Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 19 maggio è la Pentecoste. Oggi si celebra la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, detto anche IBD Day, con eventi e iniziative in tutto il mondo volto a sensibilizzare l'opinione pubblica su queste patologie che colpiscono persone di tutta l'età. Le malattie infiammatorie croniche intestinali comprendono la malattia di cron e la colita ulcerosa. Negli ultimi 30 anni la prevalenza globale delle malattie infiammatorie croniche intestinali è aumentata dell'85%, con un numero di ammalati di circa 7 milioni a livello mondiale. Oggi è anche la giornata nazionale delle fragole e la giornata internazionale del Devil's Food Cake, letteralmente torta al cibo del diavolo. Si tratta di una torta di pan di spagna al cacao con intervallati strati di crema ganache utilizzata anche per la copertura finale. Tra i nati oggi abbiamo Malcolm X 1925 e Alexia 1967. Dalle scomparsi ricordiamo invece Marco Pannella 2016 e Jacqueline Kennedy 1994.